benvenuto gemelli andiamo a vedere il nostro oroscopo vediamo un po l'entrata di venere pianeta dell'amore del benessere della soddisfazione personale dicevo vediamo l'entrata di venere nel segno del toro che cosa comporterà per te per il tuo segno zodiacale venere che passerà che entrerà nel segno del toro giorno 29 maggio e ci rimarrà fino alla fine del del mese di giugno fino al 24 giugno giorno in cui fra l'altro entrerà nel tuo segno zodiacale e lì ne vedremo ne vedremo delle belle poi interroghiamo anche un po i miei tarocchi va bene allora che cosa già mi dice questo passaggio allora innanzitutto venere sta camminando in ariete sicuramente ti ha portato più sicurezza in te ti sta portando più sicurezza in te io ti vedo anche più più prenderti cura di te quindi una manicure in più un parrucchiere in più un jeans comprato in più insomma poi dipende dall'età che tu hai se tu ti compi la minigonna tra caspillo il capotto voglio dire a parte gli schesi comunque quindi il prenderti cura di te ti vedo anche più affascinante quindi più buttarti in fuori no questa venere in ariete ti ha reso si rende più intraprendente più audace ecco mi veniva la parola più audace più audacia quindi proprio qui ci si butta un pochino un pochino di più nelle cose più istintivo eccetera venere in toro per contro è una venere bellissima fra l'altro perché proprio nel suo domicilio quindi è una venere che si muove come dire nelle sue acque e nei suoi cenci quindi si esprime al meglio va bene ora al di là di tutto questo che cosa significa questo perché allora qui sicuramente ti vedo vivere più che altro è come se tu stessi preparando se tu stessi covando un qualcosa che poi esploderà verrà fuori più avanti quando venere appunto entrerà nel segno dei nel segno dei gemelli quindi posso vedere per esempio per dirne una se tu lavori in proprio se sei un libero professionista se tu sei che lavori per tuo conto per tuo conto beh qui il lavoro va bene io si vedo guadagnare dei bei soldini ti vedo lavorare ti vedo avere sicuramente grandi 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 soddisfazioni qui c'è una donna in particolare c'è una figura femminile che avrà un ruolo chiave per te in questo in questo mese quindi un'amica un'amica e magari non vedevi non sentivi che riappare capito piuttosto che sia che tu sia uomo sia che tu sia donna sto dicendo io poi ci sono anche dei gemelli che potrebbero vivere anche una storia clandestina per esempio capito mi rivolgo a voi maschietti ecco non solo ai maschietti ma insomma ecco qui questo ora io non guardo agli altri pianeti poi con l'oroscopo del mese di giugno ne parlerò meglio andremo più in profondità ci sono anche tutti gli altri transiti c'è un marte e anch'esso mi entra nel segno dell'ariete per te wow giove idem lo vediamo comunque lo abbiamo visto nell'oroscopo di maggio e vedremo ancora il loro cammino tutto insieme nell'oroscopo di giugno ok che ti invito ovviamente a guardare tra qualche giorno lo pubblicherò per ora mi limito a guardare venere pianeta della dell'amore abbiamo detto capito quindi qui ci può essere senz'altro una qualche simpatia e tenderemo a tenere nascosta semplicemente non è nascosta ma non ne parliamo con gli altri e via dicendo ti chiedo solo una cosa ci potrebbe essere una figura femminile un pochino non cattiva è no 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 non è cattiva però un pochino in quella maniera lì ecco potrebbe essere un pochino gelosetta un pochino invidiosetta ecco e via dicendo non cattiva non è cattiva quindi non no però insomma un po quella maniera lì vediamo cosa mi dicono i tarocchi così li metto insieme a quello che ci ha detto l'astrologia vediamo cosa dice capito quindi ecco un po tutte queste cose qui io vedo andare bene il lavoro sinceramente il lavoro in toro il lavoro ma guarda qui tu potresti decidere anche di acquistare qualcosa non so se un immobile se un immobile qui ci sono dei movimenti anche bancari io non lo so che tu fai boh qui ci sono dei movimenti bancari soldi i soldi che vengono mossi allora il passaggio di venere in toro dal 29 maggio 9 di spade dal 29 maggio al 24 giugno cosa porta cosa significa il segno dei gemelli 6 di bastoni vedi ci sono anche dei segreti che sta attento che qualcuno te li vada a spifferare a 4 20 allora il 5 di denari la fa fessa il 4 di spade e nel taglio il 5 di coppa e capovolto ma fammi vedere guarda se vedi qui fai un bel respirone così perché questo è troppo agita allora nel senso che qui c'è bisogno sicuramente di riposo ma qui c'è bisogno di riposo proprio mentale di staccare da tutto e da tutti ora qui tu può essere proprio un gemellino che è così cioè che tende a isolarsi no da tutto e da tutti ma io qui ne vedo proprio anche la necessità proprio il bisogno ma c'è un qualcosa anche che ti fa un po paura e sinceramente qui le carte fanno vedere effettivamente venere in toro per te questo se lo può portare ci sono delle paure delle angosce che vengono tenute dentro magari c'è anche una carenza affettiva che non manifestiamo ma che c'è in special modo un qualcosa in passato che potrebbe essere successo però vedo anche un qualcuno che torna potrebbe essere una vecchia amica come ti stavo dicendo capito una persona e cercherà di riprendere un po i rapporti con noi c'è anche quello però ecco qui c'è un qualcosa che impensierisce che da un po di pensieri al gemelli però guarda il sole sicuramente tornerà tornerà a brillare brillare io si vedo un pochino stanco un pochino giudizio non giudizio non mi si dice guarda il matto e lotto di bastoni come si dice aiutami o io 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 come si dice a me vengono le parole a livello nervoso a livello ansioso capito ansioso nervoso insomma ti vedo un po noi nervi tirati e tu sei arrabbiato agitato schizzato non so come si dice non è molto professionale dire schizzato però tu mi capisci un'altra parola la o mi viene qui si parla di pensieri di pensieri di pensieri un po nervosi un po agitati magari tra da fare tanto qui si parla di una ristrutturazione o qualcosa che tu vorresti fare per otta paura capito come dire lo fa un lo foce un vantaggio economico ma anche no insomma qui oi oi e quindi fa quello fa il lato è un tu una voglia però tu lo devi fare insomma tu capisci ecco qui c'è bisogno di riposo ok di riposo fammi vedere un pochino ma guarda qui un voglio di tutti ma c'è qualche gemelli si potrebbe guardare di spade qualche gemelli che si potrebbe prendere anche una piccola vacanza fare un qualcosina qui ci sta eh due di spade due di spade capito fammi un po' vedere è il 10 di denari ma qui c'è molta casa la casa l'abitazione capito e quindi la ristrutturazione di casa sicuramente qui c'è qualcuno che vuol fare o deve fare un qualche cosa però le come se tu non avessi voglia come dire madonna ragazzi pigliare piuttosto due cazzotti però la devo fa sta cosa ecco qui c'è bisogno di riposo e ci sono oltre a quello che ti ho detto che poi è un po il loro riassunto c'è un qualcosa che al gemello gli va giù è come se si dovesse sentire obbligato a fare un qualcosa o una voglia una voglia di fare qualche qua qui non sa come fare perché vorrebbe scappare invece di tocca capito qui c'è un qualcosa che a cui noi vorremmo sfuggire però qui tutto al più tu lo puoi mettere in pausa questa cosa però qui c'è un qualcosa c'è un obbligo un dovere un qualcosa che tu devi fare però mal tolleri capito non tolleri un qualcosa che invece tu tutti senti quantomeno obbligato a fare un qualcosa che riguarda la casa o comunque la la famiglia qui c'è il lavoro sicuramente ci sono delle novità che ti porta questa venere sicuramente delle notizie che che arrivano senz'altro ti porta delle nuove delle nuove conoscenze fanno vedere anche quello ma ti vedo anche proprio concederti un qualcosa un piccolo stacco una piccola vacanza qui fanno vedere anche una piccola gita una piccola gita una piccola scampagnata che tu potresti fare tu decidi capito di iniziare una nuova avventura di fare un qualcosa c'è un dono anche che arriva qualcuno ti propone o ti regala proprio qualche cosa capito andiamo a vedere c'è un qualcosa che impensierisce il gemelli un qualcosa che non tolera c'è da fare qualcosa e non tolera come di leave me alone cioè lasciami lasciatemi solo lasciatemi in pace o non voglia capito un re di coppe chi è questo o chi è questo con il tre di bastoni e il cavaliere di denari ma e guarda qui potrebbe essere anche sto tizio che si rifà vivo perché un ritorno di qualcuno lo vedo ora un ritorno un nemmi ha detto sia il tuo ex di vent'anni fa semplicemente potresti anche rivedere un vecchio amico insomma comunque una ripresa di contatti con qualcuno che c'è qui c'è è anche vero che c'è un po' di distacco emotivo non è che ci sia tutto st'amore tutta sta cosa sinceramente magari è una persona che ti ha fatto qualcosa o di cui se ne freghi giusto sinceramente ecco non è che ti vedo stracciati le vesti no 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 io ti vedo più che altro alle prese con questa casa con la famiglia con un qualche obbligo che tu tolleri po sinceramente però tu ti senti obbligato a fare ecco un qualcosa che magari tieni dentro di te capito che ti piacerebbe ma che tu tieni dentro di te non ti esprimi più di tanto con questa venere in toro e via dicendo qui secondo me per ribaltare proprio tutta la situazione dobbiamo aspettare la fine di giugno quando poi venere ti diverrà di nuovo amica quando entra non che ti faccia un aspetto negativo non te ne fa di aspetti ecco diciamo neutra mettiamo una cosa quando entrerà proprio in gemelli allora lì lì ne vedremo delle belle ma di questo vi parlerò nell'oroscopo ovviamente di giugno in cui vedremo un pochino tutto il il quadro quindi questo passaggio di venere in toro non è affatto negativo diciamo che ti invita il riposo ecco ti invita il riposo a startene da solo voglia proprio di silenzio voglia di stacco da tutto e da tutti voglia e bisogno di tranquillità magari starci lì davanti al computer guarda un film senza rotture di scatole da tutte le parti ecco io vedo un pochino questo questo è proprio il sotto capito gemelli tutto qua io ti ringrazio e ti aspetto ovviamente qui al prossimo video ok ciao gemelli eccoci qua vi lascio ai miei no eccoci qua